Sulla carta sono solo elezioni europee, associate in alcuni casi alle amministrative, ma in realtà potrebbero trasformarsi in un test probante per saggiare le condizioni di partiti e schieramenti che già guardano l'appuntamento delle regionali. E benché i maggiori responsabili dei partiti si affrettino a precisare che questa tornata elettorale non ha nulla da spartire con quella in programma il prossimo autunno, è evidente come le ripercussioni dell'esito elettorale di domenica prossima possano dispiegare i loro effetti sugli equilibri futuri. Altri due paesi chiamati al voto sono stati invece costretti a disdire ogni procedura avviata, a Palizzi nel Regino per lo scioglimento dell'amministrazione comunale e l'invio dei commissari da parte del governo, a Diamante invece nel Cosentino per la morte di Ernesto Caselli, uno dei candidati a sindaco in Lizza. Quattro i centri interessati alla tornata amministrativa di dopodomani con popolazione superiore a 15.000 abitanti per i quali è applicato il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Si tratta di Corigliano Rossano, per la prima volta al voto dopo la fusione tra i due popolosi centri della costa ionica cosentina, Gioia Tauro, Montalto Fugo e Rende. Uno solo è il capoluogo di provincia interessato invece dalla competizione, si tratta di Vibo Valencia. Al contrario, il più piccolo comune chiamato al voto si trova in provincia di Reggio Calabria ed è Sant'Alessio in Aspromonte che conta 323 abitanti. Si torna al voto pure a San Luca, 11 anni di distanza dalla vittoria di Sebastiano Giorgi. La campagna elettorale di queste settimane ha fatto registrare toni sostanzialmente dimessi, tranne qualche negativa eccezione. A San Pietro, centro dell'Amettino, un episodio ha turbato infatti la vigilia del voto. I gnoti hanno lanciato liquido infiammabile contro l'abitazione di Caterina Papatolo, candidata a consiglio comunale, mentre un proiettile ad alto potenziale è stato lasciato nella cassetta della posta di Gianfranco Costa, in lizza per un seggio nel consiglio comunale a Corigliano Rossano. A Vibo Valencia, invece, dove sono presenti coalizioni eterogenee frutto di accordi politici locali, l'unico tema a scaldare un clima piuttosto freddo è stato quello delle liste pulite.